Guarda, io ti posso parlare per l'esperienza che ho fatto l'anno scorso, siamo partiti anche noi con una squadra forte che doveva vincere il campionato, stravincere il campionato e ci siamo salvati a tre giornate dalla fine fondamentalmente. La Serie B è un campionato difficilissimo, impegnativo, credo sia difficile se non impossibile poter prevedere quello che poi sarà la fine, nel senso che vincerà il campionato, chi sarà le squadre che lotteranno per salvarsi. Sicuramente noi adesso anche con il mister abbiamo parlato di fare un campionato importante, di cercare di lavorare per fare un campionato importante, quindi credo che il nostro obiettivo ora sia questo, lavorare per cercare di fare un campionato importante. Poi piano piano vedremo quello che siamo stati in grado di fare e che saremo in grado di fare. Io personalmente credo che il mio ruolo ideale sia mezzala con magari qualche compito più offensivo che difensivo. L'anno scorso ho fatto tutti i ruoli, tutti i ruoli e mi è mancato il difensore centrale, penso ogni volta che c'era necessità per l'allenatore di cambiarmi ruolo, esatto, che aveva bisogno, mi ha messo veramente a fare qualsiasi cosa. Ho fatto la seconda punta, il tre quarti, la mezzala, ho fatto il quinto, quindi ho cercato di adattarmi nel migliore dei modi. Se mi chiedi a me personalmente credo che sia la mezzala essere il mio ruolo giusto. Sono altre situazioni che avrei potuto scegliere, però quando è arrivata la chiamata della Salernitana ti dico la sincera verità. Le volte che sono venuto a giocare qui, in questo stadio, era un'emozione vedere la curva, vedere lo stadio. Conosco la zona, l'ambiente, quindi a me piace andare a giocare in un posto dove ci sia passione, dove ci sia voglia anche da parte della città, dei tifosi. L'allenatore è stato importante, ha fatto la sua parte perché sicuramente credo che essere allenati da un allenatore come Ventura possa essere solo una cosa di cui potrò vantarmi in futuro. E che sicuramente mi potrà far crescere ancora tanto perché sicuramente ho da crescere. Come hai detto bene tu, io sono partito dal basso, nel senso che ho commesso degli errori in passato quando ero più giovane, quando ero un ragazzino, di cui non riuscivo a rendermi conto. Niente di particolare, erano solamente atteggiamenti, cose che non andavano bene, che mi hanno fatto buttare via qualche anno. Poi ho deciso che questo volevo fare nella mia vita, che questo sarebbe dovuto diventare, oltre che essere la mia più grande passione, doveva diventare anche il mio lavoro. Quindi sono riuscito a ripartire, a fare le cose in maniera diversa, fatte bene e tornare qui. Il mio obiettivo è quello sicuramente di fare uno step, uno step dopo ancora, no? Dici tutto sto casino da fai. No, a parte gli scherzi. Quindi spero che questo possa essere l'anno per me, per la squadra e quindi di conseguenza per la città, per i tifosi, per tutti, per un qualcosa che magari possa essere veramente bello. Sicuramente è l'allenatore che vuole e vorrà proporre calcio. Noi proporremo calcio, di questo ne sono sicuro. È presto adesso comunque perché è una settimana, neanche una settimana di ritiro, dove la parte atletica, la condizione fisica è la cosa che viene curata un po' di più sicuramente. Però con lui stiamo incominciando a buttare giù qualche cosa a livello tattico. Io ho un calcio il suo che posso conoscere perché è lo stesso calcio che faceva Grasadonia. Quindi tanti movimenti li conosco. Sicuramente l'esperienza del mister è un'esperienza che non ha avuto nessun altro allenatore che ha avuto. Quindi ogni parola che dice io e sicuramente tutti i miei compagni dal più giovane al più vecchio, tra virgolette, dovremo essere bravi a interpretarla nel modo giusto, a capirla subito. Perché è un allenatore che è abituato ad allenare giocatori importanti, di categorie superiori. Quindi dovremo essere ancora più bravi noi perché tutto quello che lui dirà dovrà essere assorbito per poi metterlo in campo la domenica. Assolutamente. Guarda, prima la domanda che mi ha fatto lui, per quale motivo ho poi scelto di venire qua? Sicuramente il modo di giocare anche all'allenatore, come vuole proporre calcio lui, credo che si sposi e si adatti perfettamente con quelle che sono le mie caratteristiche. Quindi spero e voglio sicuramente dare un contributo importante in zona gol perché qualche gol l'ho fatto in questi due anni e vorrei continuare, anzi, migliorarmi ancora di più. Magari fare qualcosa di importante. Parte atletica preponderante in questo momento, come state? Come rispondono? Bene, bene, stiamo bene, stiamo lavorando, devo dire, veramente tanto in maniera dura, però il ritiro è fatto apposta, dobbiamo mettere benzina. Quindi si fatica, si sa, però lo stiamo facendo tutto col sorriso, tutto nel migliore dei modi. Quindi questa è una componente importante per far passare queste due settimane che sono, diciamo, quelle dai calciatori, quelle un po' meno divertenti perché appunto si corre tutti i giorni e si fatica tanto. Però sono troppo importanti perché poi saranno la benzina più importante che dovremo mettere per tutto l'anno, per il campionato. Grazie.